Sono meglio i capelli corti o i capelli lunghi? Se stai guardando questo video probabilmente è perché stai cercando di capire se farti crescere i capelli oppure se tenerli corti è un'opzione comunque valida, stai cercando di capire i pro e i contro di un'opzione o l'altra oppure semplicemente hai i capelli lunghi e sei indeciso se tagliarli o meno Io qui vi voglio parlare della mia esperienza e voglio parlare di tre pro e contro sia dei capelli lunghi che dei capelli corti Contate che io ho avuto i capelli corti, medio corti diciamo fino al periodo del liceo facendo nuoto, facendo nuoto tutti i giorni poi un giorno ho deciso sai cosa provo a tenerli naturali, a non tagliarli, a lasciarli così come sono e ho notato che invece di essere lisci perché ero convinto fossero lisci perché continuavo a toccarli, metterli a posto usare shampoo per capelli lisci, continuavo a pettinarli ho scoperto che invece erano mosse quasi ricci e quindi ho lasciati stare per un po' essendo in una classe di sole femmine piano piano mi hanno un po' anche istruito sulla haircare necessariamente sono finito ad avere i capelli un po' più lunghi del normale è un atto che mi piacevano molto allora semplicemente li ho lasciati così ma senza neanche una decisione semplicemente mi sentivo a mio agio così e non ho mai avuto in realtà una decisione da dire no li faccio corti o li faccio lunghi semplicemente avendoli un po' più ricci mi stavano meglio quando ero a lunghetti quindi ho tenuto i cosi fino qua per un po' e poi ho provato sempre più lunghi, sempre più lunghi e fino a che questa è un po' la misura, diciamo forse più lunga a cui sono arrivato e quindi diciamo che vi voglio dare un po' i tre pro e i tre contro anche sentendo pareri di miei amici, facendo un po' di ricerche dandovi i pareri di una persona che ha avuto i capelli corti chi ha i capelli lunghi e quali sono i pro e i contro e perché li tengo lunghi capelli corti ovviamente sono comodi quindi i tre proprio semplicemente sono comodi sono facili da tenere quindi ti fai la doccia, tac, sono a posto ti fai, vai dal parrucchiere magari diventerci un po' più spesso, quello sì però, tac, sono a posto ti metti il casco, te li rimetti un attimo a posto sei a posto usi un gel, sei a posto in doccia non servono 50.000 cose ti fai la tua routine semplice non devi aspettare che si asciugano oppure in tre secondi col fond li asciughi se hai il capello che non è messo tanto bene diciamo che il fatto che sia corto lo nasconde un po' quindi sono comodi, facili vai a letto, la mattina ti alzi otto volte su dieci non persone con i capelli corti è già a posto vai in piscina, la cuffia ti sta il casco quindi diciamo sono comodi sono facili da tenere a parte il parrucchiere che magari devi farlo un po' più spesso tre, i dogmi sociali non hai questo razzismo tra virgolette verso i tuoi capelli ovvero vai a fare un colloquio di lavoro nessuno ti dira niente per i tuoi capelli vai a fare un video sui social nessuno ti dira niente sui capelli vai nel bagno dei maschi nessuno ti dira niente puoi vestirti elegante che nessuno ti dira niente puoi apparire normale come un ragazzo normale con qualsiasi cosa i tre pro invece dei capelli lunghi uno ha più opzioni ovvero nel momento in cui ho capelli lunghi posso tenerli corti quindi posso tirarli su posso tenerli giù posso fare acconciature posso metterli in un certo modo posso esplorare vari tipi di acconciature essendo più lunghi hai varie opzioni di come tenerli come farli due sono meno comuni ovvero vai in giro e trovi su dieci ragazzi due barra due e mezzo o tre con i capelli lunghi e la maggior parte con i capelli corti quindi è qualcosa di abbastanza unico che la gente nota e tre sono molto belli è come un fisico ben allenato quindi diciamo che non c'è una scorciatoia per un fisico ben allenato non c'è una scorciatoia per i capelli lunghi per avere i capelli lunghi bisogna avere disciplina passare alla fase di mezzo e sapere come tenerli lunghi però se riuscirete a tenerli nel modo corretto fidatevi che tanta gente vi farà i complimenti o vi farà notare i vostri capelli cosa che a me succede quasi tutti i giorni se esco o comunque se incontro gente oppure sui social i contro invece sono proprio l'opposto uno dell'altro ovvero per i capelli corti i contro sono i pro dei capelli lunghi ma al contrario ovvero non hai opzioni quindi diciamo che tendenzialmente ti fai un taglio e quello è devi andare dal parrucchiere a cambiarti taglio o non è che hai molte opzioni li tieni così e basta sono molto comuni quindi il contro di avere i capelli corti anche se sono comodi ce l'hanno tutti soprattutto se ti fai lo stesso taglio di tutti ce l'hanno tutti quindi dovrai utilizzare qualcos'altro per risaltare numero tre sì possono essere diciamo belli quanto vuoi ma per quanto siano fantastici dei capelli corti penso che poca gente te li faccia notare o poca gente ti faccia complimenti per i capelli perché non sono qualcosa di particolare che la gente nota in te magari puoi dirti oh wow hai tagliato i capelli o altro però è difficile che qualcuno noti diciamo la bellezza di un capello comune senza togliere niente i capelli corti che ci sono alcuni tagli che sono pazzeschi i contro invece dei capelli lunghi sono i pro dei capelli corti al contrario ovvero sono scomodi diciamo che in realtà vi dico una verità che sono comodi quando sono così lunghi perché diciamo la parte scomoda è quando sono verso metà perché fai fatica a legarli perché non sono ancora troppo lunghi quindi capitano ciuffi ovunque ti vanno in bocca mentre mangi quando ti porti in giù non vedi niente quindi hai delle fasi scomode qui però ti abitui e quando gli hai tanto lunghi in realtà come una ragazza diciamo impari a legarteli in vari modi quindi non sono neanche poi così scomodi quando ci si fa allenamento si lega quando si è in quando si va a letto si deve fare un po' più di accortezze insomma però diciamo che non sono scomodissimi quando ci si fa la mano facili da tenere sono difficili da tenere quindi in realtà il capello lungo non c'è scampo o lo tratti bene o si vede tantissimo e questa è la cosa brutta della maggior parte dei ragazzi con i capelli lunghi è che non hanno una hair care non sanno tenere i capelli lunghi quindi una persona adesso già associa capelli lunghi in un ragazzo uguale metallaro o uguale uno che si mantiene male un hippie quindi tutti questi capelli crespi brutti no perché perché un ragazzo non è abituato come una ragazza fin da giovane a tenersi un hair care a curarsi i capelli usare i prodotti giusti avere una routine giusta a sapere come tenerli a non stressarli perché sembrano cose femminili e quindi semplicemente hanno capelli orribili e quando il capello è lungo lo si vede tantissimo quando non è sano quando è danneggiato quindi è inutile non c'è scampo bisogna tenerli bene però se li tenete bene fidatevi che ne vale la pena e inoltre ne vale la pena perché non è qualcosa che possono avere tutti contate che la maggior parte delle persone degli uomini iniziano a perdere capelli già da 20 anni già dai 20 anni dai 25 e ne perdono sempre di più poi per lo stress per il nostro stile di vita quindi ragazzi fidatevi che se avete i capelli avete anche la fortuna di avere un capello forte che cresce anche lungo finché ce l'avete o comunque dato che ce l'avete sfruttatelo provate le opzioni cercate di combattere quella fase di mezzo resistere e provare a avere i capelli lunghi se proprio non vi piacciono tornate ai capelli corti c'è sempre tempo ma se state guardando questo video è perché siete in dubbio quindi dateci un tentativo numero 3 i dogmi sociali ovviamente quando andrete in bagno ci sarà la battutina ah oddio ma non è il bagno dei maschi questo perché vedono quei capelli lunghi oppure ti scambiano mille volte con una ragazza che non è vero che ti scambiano con una ragazza lo fanno solo per fare la battutina oppure ci saranno i soliti commenti wow è una donna wow è Gesù wow è Tarzan hai i capelli tenuti meglio di me detto da una ragazza che non vuol dire niente perché cosa vuol dire che una ragazza stia nei capelli meglio di un ragazzo no quindi vai a fare un colloquio e ci sono alcuni lavori per cui magari a me non hanno mai fatto storie però capisco che per un diciamo un avvocato o qualcuno che deve stare in giacca e cravata tutto il giorno magari avere i capelli più perfetti possibile anche tenuti dritti forse sia più consono non lo so quindi purtroppo il giorno d'oggi ci sono ancora questi dogmi sociali anche se i vichinghi e noi abbiamo sempre avuto i capelli lunghi ed è anche simbolo ed era simbolo di virilità ragazzi i capelli crescono su tutte le teste e l'unico problema non è di chi ce li ha lunghi ma è chi se li taglia quella è una cosa non naturale quindi in realtà non c'è niente di cui vergognarsi anzi accettate i vostri capelli lunghi accettate di avere dei capelli così siete diversi ed è una cosa che probabilmente la maggior parte delle persone vi dice perché li invidia e non può averli o comunque se li volesse avere c'è tantissima strada da fare ed è per questo che io li tengo fanno parte della mia personalità fanno parte della mia persona finché li avrò non è detto che li avrò per sempre ma finché li ho avere più opzioni avere essere diverso fare in modo che i miei capelli siano simbolo di verità e allo stesso tempo di femminilità mi apre tante strade mi apre tante porte piaccio a persone anche quasi solo per i capelli mi faccio notare anche solo per i capelli non mi immaginerei mai con un taglio corto però magari in futuro lo proverò però anche per pigrizia mi piace tenerli così non mi piace andare dal parrucchiere mille volte ci vado solo per sistemarli ogni tanto mi piace la mia routine mi piace averli sani mi piace tenerli mi piace legarli mi piace come sto io personalmente anche nel mondo dello spettacolo o comunque della moda quando cercano i ragazzi ovviamente hai meno competizione se hai capelli lunghi perché pochi ragazzi ce li hanno e anche proprio per mio carattere per difendere i ragazzi coi capelli lunghi io li tengo così almeno per ora non è da identificarsi coi propri capelli però è da esserne fieri in entrambi i casi quindi non vergognarsi se si ha i capelli lunghi non vergognarsi se non si hanno capelli non vergognarsi se si hanno troppo capelli o pochi capelli quindi ragazzi questo è un video diciamo più che altro per chi è indeciso ma probabilmente io ho capito il motivo per cui sei indeciso perché non sai se tenerli o farti i capelli lunghi per questo ho fatto un po' questa enfasi sui capelli lunghi spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate e vi lascio anche in descrizione un paio di video sulla mia routine sui prodotti che utilizzo e su come passare questa fase di mezzo in caso in cui decideste di far crescere i capelli iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao